E' un impegno che abbiamo ribadito e che vogliamo confermare, mettiamo a disposizione 6 milioni e 100 mila euro tutti gli anni che verranno distribuiti tra i vari tipi di trasporto sia ferroviario, sia sui trasporti urbani, sia persino sul lago di Iseo per garantire la gratuità alla circolazione di tutti i rappresentanti delle forze dell'ordine e dell'esercito. E' chiaro che questo fatto noi lo vediamo molto utile da un lato per migliorare un pochettino la vita anche dei nostri rappresentanti delle forze dell'ordine e dall'altro per avere in cambio un sostegno alla copertura sulla sicurezza. E' chiaro che la loro presenza è un deterrente ed è anche una garanzia che nel caso in cui si dovessero verificare degli episodi possono immediatamente intervenire. Presidente, lei ha sempre sostenuto che la sicurezza anche percepita è molto importante, il fatto di avere divise sui mezzi e comunque in generale per le strade è sicuramente un deterrente. Guardi, una vecchia questione che io sollevai tanti anni fa in occasione di un convegno, non è soltanto la reale ma è anche la percepita, cioè i nostri cittadini devono sentirsi tranquilli oltre che essere tranquilli. Quindi noi dobbiamo fare in modo che si riesca ad incidere in maniera sostanziale su questa situazione che in questo momento è invece un problema. Oggi insieme all'assessore alla sicurezza e con il presidente Fontana di concerto portiamo avanti un protocollo d'intesa che va avanti con le forze dell'ordine, le forze armate ed è quello che vogliamo fare anche per i prossimi anni. Io ho intenzione anche di chiedere dei dati che dimostrano anche un miglioramento delle condizioni a livello di tutela della sicurezza e del personale anche che a bordo viaggia quotidianamente. Quindi questo lo dimostreremo con dati alla mano nei prossimi anni proprio per dimostrare che non è soltanto dare la libertà di circolazione agli agenti, agli ufficiali delle forze dell'ordine e delle forze armate ma vogliamo costituire con questo protocollo d'intesa ovviamente una sorta di deterrente per evitare atti di vandalismo e soprattutto i soliti crimini che si sentono quotidianamente e che non vogliamo si ripetono nel corso del tempo. I casi che tutti i giorni o quasi tutti i giorni possiamo leggere sui giornali sono sempre più gravi e una esigenza che il cittadino sente sempre di più, cosa che in passato avveniva abbastanza raramente. Pertanto il protocollo d'intesa firmato oggi tra la regione e tutte le forze di polizia, le forze dell'ordine, l'esercito, l'aeronautica è certamente un passo molto importante perché dà una percezione quantomeno di sicurezza maggiore in più da parte dei cittadini. Indubbiamente avere un uomo delle forze dell'ordine che sarà invogliato ancora di più a prendere i mezzi di trasporto pubblici perché saranno gratuiti anche se in borghese, cosa che una volta non avveniva, si sentiranno maggiormente responsabilizzati e anche i cittadini sapendo che sul vagone può esserci una persona in più pronta ad aiutarci non può che essere un fatto estremamente positivo.